Ciao ragazzi, questo è il video per farvi vedere il test del fucile Max H1, il fucile ad idrogeno. Allora, il fucile l'ho voluto verniciare, come vedete, un mimetico deserto. Oggi faremo i test all'esterno per testare un po' la potenza del fucile. Allora, se volete vi faccio sentire uno scoppio, comunque ne sentirete parecchi dopo, apriamo la valvola antritorno di fiamma, azioniamo l'interruttore per generare l'idrogeno, dobbiamo ottenere qualche secondo che l'idrogeno riempia la camera di scoppio, chiudiamo la valvola di antritorno di fiamma, sempre prima di azionare l'interruttore, altrimenti avremo il nostro scoppio del tappo. Come avete sentito, fa un bello scoppio. Ok, adesso andiamo a vedere la potenza che ha il fucile, andiamo all'esterno a fare qualche colpo. Ok. 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 Sì Allora ragazzi come al solito per chiudere il nostro video volevo fare le mie raccomandazioni sempre come faccio di solito di stare attenti quando usate queste armi e soprattutto di non usarle contro animali e persone. Mi raccomando allora se volete costruire quest'arma che è un piccolo generatore di idrogeno state attenti perché produce gas altamente infiammabile quindi la prima cosa la sicurezza. Ciao ragazzi al prossimo video. Ciao 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 Ciao